Quando è stato venerdì, venerdì, mi sono stato male, sono avuto un pochino di febbre, ho detto, boh, cos'è successo? Cioè, a me, per fortuna, grazie a Dio, non mi capita, cioè, è raro che io abbia la febbre. Quindi mi sono preoccupato, ho detto, covid, no? Perché ovviamente da quando è iniziato, quando hai la febbre, è covid. Per forza, eh, non, cioè, no? Si pensa sempre, poi non è, ovviamente non è sempre detto, però, si pensa sempre. E sono andato a farmi il tampone, perché prassi, no, ormai, insieme ad Anna, che poi noi non incontriamo nessuno, cioè, non è che abbiamo sta grande vita sociale, non è che andiamo a farla sbocciare lì nelle discoteche, però, sai, non puoi mai sapere, dice, ormai se lo sono preso tu, ti ho detto, ah, quasi quasi che dice, oh, si entra nel club, no? Perché ormai che non se lo sono preso sia rimasti io e Anna, e invece no, non era, non era, per fortuna, penso. Comunque, fatto sta che poi ci ho dormito su ed è passata. Non lo so cos'è stato. C'ho un pochino, c'ho un pochino di fastidietto alla gola ogni tanto, c'ho un pochettino così, magari, perché comunque sta anche l'influenza, però, non lo so. Magari, magari mi sono preso freddo, cioè, in teoria il freddo non fa venire la febbre, eh, che io sappia, però, sai, sai mai, pochino, boh. Ma, fatto sta, comunque, adesso penso di stare bene, grazie, tutto bene. I miei giorni, in pratica, perché, eh, ma io mi immagino, cioè, quando voi andate a scuola, eh, immagino, vatti a fare il tampone, eh, cosa c'è, un po' di fare, a fare il tampone. Eh, lo posso capire, è una bella estata, una bella ansia, speriamo che quest'estate si finisca, ma non sono mica sicuro, eh. Speriamo. Il VTuber. Il VTuber, ci abbiamo lavorato, in teoria, quello di Alex è finito, ed è funzionante. Eh, stiamo cercando di fare anche quello di Stray, e io vorrei anche fare Cico, ah, ne, cioè, il problema è che ci vuole un attimo di pazienza, perché, eh, il tipo che li disegna è bravo, però c'ha il suo tempo, eh, quindi, oh, però, con calma ce la facciamo, tranquilli.